Pronti, partenza, via! Anche quest'anno è iniziato l'anno scolastico per gli alunni e gli studenti delle scuole elementari e le scuole medie di tutta la provincia di Parma. Per ciò che riguarda le superiori, alcune hanno già iniziato, quelle quadriennali come i licei di scienze applicati addirittura nei primi giorni di settembre. Tanta l'agitazione e la preoccupazione per i bambini e dei genitori che hanno iniziato le prime classi, sia fossero le prime elementari dove la preoccupazione era maggiore, ma anche perché ha dovuto cambiare scuole e passare le prime medie. notti insonne per tanti bambini e ragazzi, sia per quelli che non vedevano l'ora di rivedere i loro compagni e gli insegnanti ad imparare, sia per chi rimpiange già i giorni di vacanza. È così iniziato un nuovo anno scolastico che durerà 200 giorni di scuole che terminerà mercoledì 6 giugno. La prossima festività è quella del 1 novembre, la festività di tutti i santi, poi l'8 di dicembre e le vacanze di Natale che andranno dal 23 dicembre al 6 gennaio comprese. Le vacanze di Pasqua andranno dal 9 al 14 aprile, infatti Pasqua sarà l'11. Come tutti i primi giorni di scuola di un nuovo anno scolastico, tanti genitori che hanno accompagnato i figli e lunghe le code per entrare con insegnanti che indicavano le modalità per accedere e gli orari scolastici nel pomeriggio e nei giorni seguenti. Tutto pian piano sta tornando alla normalità dei giorni di scuola. Se il servizio di trasporto scolastico è già partito, nei prossimi giorni partiranno i pomeriggi con i servizi di mese scolastiche ed ovviamente anche la definizione di un orario scolastico definitivo. Insomma, tutto è nuovo e tutto va come al solito, con le solite problematiche e difficoltà, ma anche con la bravura e la passione di tantissimi insegnanti e l'impegno di alunni e studenti. Insomma, pronti, partenza e via! E buon viaggio soprattutto, tra i saperi, le esperienze, le amicizie, le difficoltà, le sfide, le piccole sofferenze e i momenti di gioia. Tutto fa crescere, insegna e rende più forte. Specie gli errori e gli insuccessi che si è presi nel modo giusto sono il miglior modo per imparare la lezione più grande, imparare ad affrontare le difficoltà della vita. La redazione di Tg Parmese augura buon anno scolastico a tutti, alunni, studenti, insegnanti e bidelli, ma soprattutto ai dirigenti scolastici nuovi e vecchi, che speriamo siano all'altezza delle esigenze di territori così diversi da quelli della città come quelli in cui viviamo. Grazie a tutti.